Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Power Tennis Nello scorso video ho dato un'occhiata ai nuovi minigiochi che si sono sbloccati dopo aver vinto la classe senior Ed oggi siamo qui, nella classe professionisti, per sfidare il primo avversario Eccolo qua, il rango quarto Userei i suoi supercolpi per sconfiggermi, eh eh Ma anche io ho dei nuovi supercolpi Oh, veramente? Proprio così, che poi, oh, è piccola, ma non vuol dire che non sia brava a giocare a tennis, eh Ma in ogni modo, conosciamo le regole, sì Vediamoci da fare, allora Vediamo un po' com'è che si chiamava lei Paola, ok Vai Oh, brava Ma non troppo Bello però sto campo Mi sembra più grande degli altri, forse è un'impressione mia Oh no, è un bulldozer Mamma mia che paura Per caricare il supercolpo posso premere A o B Mentre si trova dalla parte della, mentre la palla si trova dalla parte dell'avversario In questa maniera Faccio tipo uno scherno all'avversario e l'avversario ci rimane male E quindi io carico il supercolpo Cavoli, lei ha un supercolpo davvero forte Ma ci picchia Eccolo qua il mio invece Aha Supercolpo vincente Vai Così mi piace E vai, vinta la prima Molto facile questo scambio di battute Non pensavo di vincere il gioco così facilmente Ok, lì dovevo schiacciare carameglio Almeno facevo un po' più di scenografia Mamma mia che... Scusami Paola sei una pippa però Cioè nel senso, Paola Eh, dov'è Chiara? Dove l'hai lasciata? Ma ora anche queste battutacce no? Quella proprio... Me la sono cercata io E' bruttissima e pessima come battuta Oh, ioi Inoltre si può anche vedere quanto è carica la barra dei supercolpi Premendo R Così, giusto per diletto personale potete farlo Ok, questa niente Ho premuto R per sbaglio E non era carico Quindi Niente da fare Lei mi sembra In difficoltà con il gioco sotto rete Perché la palla è molto vicina E lei non riesce a prenderla dopo Inoltre Non rispondere ad un supercolpo Con un altro supercolpo Vi abbassa la barra della carica Sempre ben attenti Mi raccomando Oh no! Non ho premuto in tempo R Mannaggia Eccolo qui Però è ovvio che se poi non lo usi Si abbassa di un po' la barra Nella partita successiva Tipo ora che non era... Anche se era carico il mio Ma poi si è abbassato E' un gioco un po' così dai Che poi sta cosa che era CPU carica Molto più velocemente del PG La barra dei supercolpi Non l'ho mai capita Mamma mia Velocissima Velocissima sta partita Mamma mia Nooo! Ero lontano Errore madornale Oh ma che succede? Eh vabbè allora Senti Sta fa a posto Sta fa Eh Dai Eccolo Mamma mia Mamma mia ragazzi Oh l'ultima Me l'ha fatta proprio sudà eh Accidenti a lei Ok Facciamo Un po' di controllo E anche Anzi Facciamo Velocità E colpo Vai Ok Paolo è disponibile Tre personaggi giocanti O meglio Giocabili Non giocanti Ce l'hai messo tutta Ma alla fine hai perso Che sfortuna I miei supercolpi Non sono stati efficaci Come mi aspettavo Congratulazioni Max Questa vittoria Ti porta ad essere Fra i migliori della classe Giochi perfettamente Max Non vedo l'ora Di affrontarti in campo Ah tu sei il numero 2 Vero? Congratulazioni Per il quarto rango Ma questo non significa Che puoi partecipare All'open dell'isola Perché sono io Che in quota di allenatore Selezioni i partecipanti Dal terzo rango in giù Dimostrami Che ti meriti Di partecipare All'open dell'isola Sare a secondo rango Va bene Allora spediamo Il terzo rango Che dovrebbe essere Lei? Sì Bene Le regole Le sappiamo Due giochi Incontro Su tre partite Bene Lei si chiama Olivia Ottimo Ui Wow No Anche lei fa la gira La prima volta Ah no Aspetta Lei fa la piruetta Ma non è come Duff È diverso Quindi con lei Abbiamo meno respinta Ok Mi piace Sicuramente è meglio di Duff Per quanto riguarda La respinta Opla Devo assolutamente mettere un super colpo Per recuperare la palla Cosa? Ma perché la mancata Ci stava sopra Era letteralmente Sopra la palla Ma siamo matti? Ma questo è matto Vabbè sì però Anche tu ti ci impegni eh Ma che cavolo Ha vinto lei Mamma mia Che seccatura Eh da Oh ma insomma Oh questa qui è più forte eh Ok Però se si fa fregare è così Comunque è stata brava A vincere un gioco Lei Ma ora basta Beh Wow Stai buona Eccolo qua Ok Ok ora devo vincere queste invece Vero? Ok Eccolo fatto Wow brava Davvero brava lei Davvero tosta come avversaria Mi è piaciuta Molto più di tutti quanti gli altri Sempre un po' in velocità Ora do E via Olivia Molto molto brava Olivia Mi sorprende che tu sia stata battuta La Max Anche io sono sorpresa Leo Ci credevo nei miei supercolpi Se puoi ribattere i miei supercolpi Io sono finita Perci hai vinto tu Max Non avrei mai detto Che Olivia potesse aggettare la spugna La vittoria è tua Grazie Congratulazioni per il terzo rango Ottimo lavoro Tuttavia non mi hai ancora mostrato Fino a dove puoi arrivare Max Siccome c'è un po' di tempo Fino all'open dell'isola Hai ancora la possibilità Di potermi stupire Va bene Allora L'incontro da fare Sarebbe Contro il gorilla Giochi con me per il secondo rango Certo Finalmente potrò vendicare Paula Tu sei chiara Ok Qualifichiamoci Com'è che ti chiami tu invece Non mi ricordo Jeremia Giusto Giusto Vai Jeremia Fammi vedere i tuoi supercolpi potenti Questo è sicuramente un tipo potente Non c'è Oh però C'è altre spinte vanda Che fanno paura Che cos'era quello Wow Amico Basta è buono Mamma mia Mamma mia che schiccare Che manda Ma è fortissimo Ma che cosa Ma sta vincendo lui Ma non è possibile No Via Ok Ho recuperato un punto Aiuto Ma questo è fortissimo Ah Potevo rispondermi Non avevo visto che ero carico Ok Ai 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 ragazzi È fortissimo Eccolo Eccolo Vai Eccolo Supercolpo contro supercolpo Yeah Ah Yeah Oh yes Mamma mia Oh È pericoloso questo Devo allenarmi molto di più Signori Dopo un inizio sofferto Sta andando un pochino meglio Eh Non vorrei dire Ah ecco Dovevo dirlo invece Così Era sicuro che andava fuori No Che lì Che liscio Che liscio Contato Ah Potevo rispondere Ma non mi ha risposto Con supercolpo Forse perché Già avevo preso Il tempo Con la racchetta normale Senza supercolpo Strano Eppure avevo premuto R Molto strano No No vabbè Dai però Cioè Stava lì Stava Proprio Oh sto gioco Millimetrico Proprio con Le hitbox Mamma mia Eh no Dai Dai Ma come Niente Ha vinto lui Dai però Quanto soveloce A carica i colpi Questi Non è normale Mamma mia Mamma mia Ok andata Ah eccola Questa è la palla Dell'incontro Quindi Allora ho vinto Mi sa Certo se Riesco a vincere Dai che questa è fatta Dai amico mio Dai Dai che ce la facciamo Mamma mia ragazzi Sto tisio Peggiore di tutti È stato Fino ad ora Il peggiore di tutti Nel senso Da sconfiggere Forte 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 Oh ma Considera che sto a livello 37 Ora eh Accipicchia Accipicchia Forse devo migliorare ancora Nei supercolpi Non ricordo se la velocità Supercolpi Sta ad indicare anche La velocità Con la quale si carica Ma non mi pare Però nel caso Alleniamo un po' tutto E magari Chissà Magari Andrà un po' meglio Ad ogni modo Si invertono I ranghi Che ti prende Jeremia? Non avevi detto Che avresti battuto Max? Era ciò che volevo fare Ma Max è più forte Di quanto mi aspettassi Hai vinto nel singolo Ma non hai detto L'ultima parola Nel doppio Vedrai di cosa sono capace Non ci affronteremo mai Nel doppio Mi dispiace Infatti Manca ancora il doppio Andiamoci ad allenare Vedrai che vinceremo Hai battuto Jeremia E sei al secondo rango I tuoi successi Non fanno che sorprendermi Hai guadagnato immediatamente La partecipazione All'open Puoi giocare Per il primo rango Dell'isola? Sì Max Sei un passo Dalla gloria Grazie Ma lo vedremo Nel prossimo episodio Nel prossimo episodio Affronteremo quindi Il più forte Leo Ma Sarà una sfida Molto ardo Quindi magari È meglio allenarsi Un po' nei supercolpi Per provare a respingere I suoi Allora andiamo ad amici Il video termina qui Vi ringrazio per averlo seguito In descrizione Trovate tutti quanti I link utili Per seguirmi dove vi pare Se volete E noi Ci vediamo ovviamente Domani con un nuovo video Bye bye Ciao